Perché è la categoria più in basso Fa cagare Quindi metti lascia Simone Verdi Lasciamo Simone Verdi No lascia così top Semi top decenti schifo Simone Verdi Ah top Semi top decenti schifo Allora io faccio una premessa ragazzuoli Io non vedo un cazzo perché ho lo schermo lontano Quindi mi dovete di voi chi si è calciato E chi ci vedo io Ok 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 Vai Parti col primo Che è Tommaso Pobega Allora Pobega Pobega per la stagione che ha fatto quest'anno Purtroppo lo devo mettere in trasferimento Perché è tornato al Milan Non era nostro Era un prestito secco E per la stagione che ha fatto quest'anno Io lo metterei in Semi top Lo metto in semi top Poi ovvio che se Cioè se metto tipo prima In questo caso vedo Rincon Non lo metto in semi top ovviamente Se metto però prima Rincon e poi Pobega Vuol dire cioè Grado Pobega è l'ultimo di semi top Rincon Allora Rincon Ah schifo Prova a modificarlo E metti me Scrivi tipo me Come Più o meno Perché Simone Verdi è lo schifo Me Ok vabbè Rincon Te lo metto In La via inceduta La sanfa Metà anno E questo ti fa capire Ti fa capire tanto Ma te lo metto Comunque in me Perché Rincon Comunque aveva Il general Aveva lo spirito Da 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 guerriero in campo Cioè uno che lottava molto Facceva cagare Però lottava molto Lo spirito ce l'aveva Quindi lo metto lì Ok Brecalo Brecalo Quest'anno Semi top Probabilmente Primo dei semi top Perché ha fatto Una grande prima parte Di stagione E poi si è completamente perso Eh una cosa Ti volevo chiedere Che lo scrivevano in chat Brecalo è quel calciatore Che andrà via dal Torino Cioè non verrà riscattato Per volontà Sua Sua Tu che ne pensi Perché c'è stato un ragazzo Che me l'ha scritto E mi ha detto Eh penso che Non ci si comporti così Perché fino a due mesi fa Ha fatto tutto Il mio futuro E Granata Voglio continuare al Toro Eccetera Due mesi dopo Ho cambiato completamente idea Quindi ci ha Ci ha preso un pochino Alla sprovvista Cairo comunque Non era disposto a pagare Per un milione di euro Non era disposto a pagare Per un milione di differenze Alla clausola E Nulla Perdiamo un tassello Molto importante Spero tanto Che uno spoilerino Per il mercato che farei Spero tanto in Solomon Che arriverebbe dallo Shakhtar Che non è male E Nulla Speriamo in quello Però Peccato Breca lo mettilo prima di Pobega Che sicuramente ha fatto meglio E Davide Puoi leggere la chat E che è Navido eh Sì sì C'è Non so nel caso Dicono qualcosa Zima Sì Sei una No vabbè Mi dissocio niente Tranquillo David Zima David Zima Lo metto in Decenti Decenti Un giovane Un giovane buono Dalla buona prospettiva Secondo me Con la partenza di Bremer Può prendere Il suo Cioè Sta ancora a cercare Abra Non sta ancora a cercare Sta ancora a cercare Abra Non Non con la stessa Non nella stessa maniera Ovviamente Di Bremer Però Per il giovane che è Può fare molto bene Il prossimo anno Può diventare un bel difensore Ansaldi quest'anno Con tutti gli infortuni Che ha avuto Meh Mettilo prima di Rincon Però Non so io una mia Su Ansaldi Vai A me piace veramente tanto Adesso non so che fa Va via da Torino Non ha rinnovato il contratto Sì va via Io ero uno di quei calciatori In Serie A Che ho amato Cioè i classici terzini Ma Ansaldi è No anzi sai cosa Sai cosa Mettilo ultimo in Decenti Mettilo ultimo in Decenti Perché ha fatto Una stagione piena Di infortuni Ma se Voivoda Ha fatto Voivoda Ha fatto La stagione che ha fatto In merito di Ansaldi Perché Voivoda Quest'anno Ha ricordato molto Ansaldi Nelle movenze Nei movimenti Nei cross Quindi Secondo me Ha fatto Tanti infortuni È stato fuori tanto Ma ha fatto Molto come Elemento Nello spogliatoio Ha fatto molto Da chioccia Per Voivoda Quindi secondo me E chi cazzo è? Ah Berisha E Berisha I portieri quest'anno Uno peggio dell'altro Vabbè Togli Gemello Gemello E Non ha giocato Berisha Lo metto Decenti Tra Zima e Ansaldi Perché comunque Il suo l'ha fatto Ha giocato La seconda parte Di stagione Ha fatto i suoi errorini Però comunque Ha fatto il suo Quindi Non posso metterlo Più in basso Ok Sanabria Eh Sanabria Cioè Si può essere Agrati su OneFootball Perché Sono andato su OneFootball C'è scritto Squadra preferita Lazio Ma che cazzo Seconda squadra preferita Manchester United Ma come è possibile? Flaminia Ma chi cazzo Usi quel Flaminia? Ma che Vabbè Primo Primo indecenti Primo 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 Nel senso che Non ha fatto 150 gol Ce lo si poteva aspettare Però è la punta Che fa per Juric Cioè una punta tecnica Che ti fa comunque Anche da punta Ti fa girare la squadra In attacco I suoi gol li ha fatti Ha fatto tipo 6-7 gol Quest'anno Ma se pensi che Il top scorer Quest'anno è stato Belotti Che ha fatto 8 gol Ed è stato fuori 4 mesi e mezzo Quest'anno il Toro Non ha segnato troppo Però i gol che ha segnato Li ha fatti tutti Con giocatori Abbastanza differenti Quindi Comunque Decenti Che alla fine è la forza Ed è una squadra Perché se non Andiamo a vedere Un City che ha vinto La Premier League L'ha vinta Senza avere un reale Capocannoniere Ma ha segnato tutti Quindi Io penso che sia anche Un bene sta cosa Non è sempre un male Sì sì Allora Gallo 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 Allora Se dovessi pensare Quest'anno Ma se devo pensare A quest'anno Io di top Ne trovo solo uno Che è Bremer Se devo pensare A quest'anno Di Belotti Ti metto comunque Semi top Ok Primo nei semi top Perché è stato fuori 4 mesi e mezzo Però è stato 4 mesi e mezzo fuori Ma quando è tornato Ha fatto comunque 8 gol Cioè 8 gol Gli ha fatti Ha fatto 20 partite Ha giocato 22 partite Ha fatto 8 gol I suoi numeri Li ha fatti La sua presenza La sua presenza La data Non mi sta piacendo L'atteggiamento Che sta avendo Con la società Dell'ancora non sapere Toro ha dato Un ultimatum Per sapere Lui non ha ancora Fatto sapere un cazzo Questa roba Non mi sta piacendo Però Comunque Il Gallo Ha fatto il suo Come sempre Ci ha messo Ci ha messo L'anima Per un giocatore Dell'importanza Sua A livello Proprio Dei tifosi Belotti Si sta comportando Parecchio male Non mi sta piacendo L'atteggiamento Che sta avendo Per niente Bremer E vabbè Bremer non serve Manco che te lo dica Non serve parole Per definirlo Stagione Stagione fantastica Una domanda Una domanda che ti volevo Che poi la riprenderemo Anche dopo Tu Questo prezzo Così basso Per Bremer Sei Ehm Cioè Accetti questa cosa Oppure no Perché io Sarà che c'è una visione Dei Premier Quindi prezzi Un po' Alzatissimi Però Bremer Io Da Difuso Una squadra inglese Io lo valuto 50-60 milioni Io Sì ma Io Contando il campionato Italiano 40 milioni Secondo me Non sarebbe male Ho letto di 20-25 milioni Dico Che cazzo fai Brutto Cioè 25 milioni 25 milioni Cioè abbiamo comprato Verdin Capisci Quindi Bremer Vale molto di più Bremer Con Bremer Ci dobbiamo fare i soldi Con cui ci facciamo Il cazzo di calciomercato Non possiamo venderlo A 20 milioni Capisci E quello Cioè 20 milioni Cioè stiamo parlando Non è un cazzo Che è entrato Nella top 11 Della serie A Sì Ha vinto il premio Come miglior difensore Della serie A Cazzo 25 milioni No E poi E anche giovane Cioè non è che Stiamo parlando Uno c'ha 30 anni Allora dici Vabbè 25 No Ma io sono stato abituato Da anni Che quando la Roma Prova a trattare Con Torino Cairo Fa sempre Botte cacara Come vai Adesso con Bremer Così Non so Però Se lo scegliamo Veramente così Anche perché Tra l'altro 20-25 milioni Il valore di mercato Ad esempio Vedo su Transfer Market Che secondo me È ancora basso E di 30 milioni Cioè 25 milioni Seriamente Grandissima Puttanata Qui stiamo a parlare Per ripeto E pumpati Però A chi del siti Quando dal Borlut È passato a sé Stavo pagato 50 milioni Sì ma oggettivamente Se uno vende Se uno vende Meguair A 80 milioni Uno come Bremer Quanto cazzo Devi vendere A 160 È per quello Che a me Mi dicono Che io C'ho una visione Sbagliata Ma a parer mio Uno come Bremer Per il calcio Adesso Non dico Che gli vale Non voglio Che passi Il messaggio Che vale 60 milioni Perché 60 milioni Deve essere fuori classe Ma ragazzi Ma Bremer Nel calcio Di adesso Per i prezzi Adesso Deve valere 60 milioni Ci veniamo A prendere Per il culo Cioè Io sento Interisti O milanisti Squadre che lo vogliono Eh ma Per le 25 milioni Non vale Ma che cazzo Stiamo parlando Questa ha fatto Una stagione Della madonna Lo vuole mezza Europa 25 milioni Ma che stiamo parlando Se ce lo facciamo Andare via Per 25 milioni Siamo veramente Dei polli Eh me lauro Che lo United Da questo punto Butta 25 milioni Cioè nel senso Cazzo Basta che non ci date Meguair Come contropartita Comunque Ehm Il prossimo è Ah Baselli E Baselli Simone Verdi Purtroppo Ha fatto Io ero innamorato Innamorato Di Baselli Appena arrivato A Torino I primi due anni Innamorato Perso Di lui Giovane Di una prospettiva Pazzesca Però Comunque Scusate ma In chat dicono Neanche Trento A massimo 10 milioni 10 milioni Più Pinamonti Ma stanno a fare meme Ma stanno a fare meme Ma come vai Comunque Comunque Baselli Negli ultimi anni Tra Mazzarri Tra Gianpaolo Tra Nicola Non si è più trovato Ho fatto tanti errori Non si è proprio più trovato Quindi Mi spiace perché lo adoravo Mi spiace perché lo adoravo Veramente Gigi Ehm Decente Prima di Ansaldi Ehm Perché comunque Se pigliamo l'anno scorso E cazzo Yuri ci ha fatto Yuri ci ha fatto Gigi Yuri ci ha fatto Un miracolo Cazzo Se dobbiamo pensare All'anno scorso Perché l'anno scorso E' andato Crotoni In prestito Ha fatto Faceva cagare E questa non l'ha reso decente Ha procurato 150 rigori a partita Però E' diventato un difensore decente Forse anche per la coppia Con Bremer Però è diventato decente Quindi comunque Premio il lavoro di Yuri Izzo Ultimo come decente Perché anche lui No anzi Sì No Prima di Ansaldi E Ansaldi purtroppo Lo devo mettere ultimo Però Izzo Ha giocato poco Tanti infortuni All'inizio non ha giocato Però il poco che ha giocato L'ha giocato bene Niente da dire Tipo contro il Napoli Ha dato lezioni di difesa Comunque In tutti i sensi Yuri ci ha Sì Izzo e Bremer Non ha fatto passare C'è stato quel gol Ma è fine Ha fatto passare un cazzo Marco Piazza Questo pure era un altro Porco di me ricordo Aveva avviato la Juve Che fenomeno Mamma mia Che fine che ha fatto Piazza Piazza ti dico me Perché comunque Il potenziale Sto ragazzo Cioè Prima di Irincon Il potenziale Sto ragazzo C'è là L'abbiamo visto Inizio anno Aveva fatto Quella a Sassuolo Alla Lazio All'Empoli Il potenziale Sto ragazzo C'è là Il fatto è che È fatto di Carta stagnola Non ha convinto Poi Poi è entrato In auge Brecalo Con Pratt Lì davanti Cioè dietro Dietro la punta Quindi Non ha poi trovato Tanto spazio Spiace Perché comunque Il potenziale Sto ragazzo Ce l'ha E continuerà È triste Ma continuerà Questa sua ruota Infinita di prestiti Perché è ancora Di proprietà Della Juve Piazza Quindi continuerà Questa ruota Infinita di prestiti Che l'ha portato A Genova A Firenze A Torino È triste Però è Nella verità Purtroppo Singo Ultimo In semi top Perché Ha fatto Un'altra Grande promessa Lo vuole il Tottenham Di Conte E si attacca Al cazzo Oggettivamente Il Singo Me lo tengo E Anche perché Sì No Singo Me lo voglio tenere E Singo Sì che è Singo Però No perché Non mi voglio confondere Con O-Line Però O-Line È lì sotto Quindi va bene E Singo è Tanta È tanta roba È un buon giovane Può ancora migliorare Ogni tanto Deve aggiustare i piedi Perché ogni tanto Li monta al contrario Prima di scendere in campo Però È buono È buono Poi c'è Drippa in un modo pazzesco C'è un stile Nelle foto su Instagram Comunque Ultimo in semitopo Ci sta Ok Linetti Ultimo in No aspetta cazzo No Linetti Simone Verdi Se lo metto come ultimo In Simone Verdi Vuol dire che è peggio Di Baselli Sì Allora lo metto Prima di Baselli Ha fatto vedere Qualcosina inizio anno Però stesso discorso Per Piazza Cioè Ciao E poi scomparso Non più utilizzato E Iuric Per la tre quarti Ha provato a spostarlo Sulla tre quarti Non ha funzionato E amen Poi il prossimo È Luca Gemello Gemello Non lo posso Neanche No Allora Gemello Secondo me Per il giovane Che è È un classe 2000 E il nostro terzo portiere Viene dalla nostra giovanile Ok Ha giocato una partita Contro la Fiorentina Ha tenuto la porta inviolata Interpellato pochissime volte Ma Per quello che avevo visto In giovanile In primavera È bravo Ha giocato pochissimo Però non posso metterlo In Simone Verdi In me Capisci Lo metto come ultimo Indecente Vabbè potresti anche Non metterlo Come abbiamo fatto Eh guarda Potresti anche Lascialo lì Come non valutabile Tipo con Con Luca Quell'altra volta Molti non li abbiamo Proprio valutati Perché era impossibile Farlo Allora te lo metto Senza voto Cioè è impossibile Valutarlo Non posso valutarlo Da una partita Per quello che ho visto Da una primavera È bravo È anche lui Un buon prospetto Allora vola qua dietro No dove vai Testa di cazzo No È spariti tutti Me lo metti lì Grazie Mergin Voivoda Semi top Prima di Singo E ha preso da Maestro Ansaldi E quest'anno No è andato in top Non è andato Lì Ha preso da maestro Ansaldi Ansaldi gli ha insegnato Tanto Secondo me Su come muoversi Su come mettere il pallone In mezzo Una grande intesa Con Singo Dall'altra parte Ha fatto molto bene Ci sono stati momenti Inizio anno In cui sembrava Ronaldinho Per come stoppava Il pallone di tacco E tutti eravamo Voi voi Saltati a merda Però Nulla Anche lui Da tenere Assolutamente Gli esterni Sono da tenere Da blindare Adesso arriva La parte più bella O la Haina Primo in Simone Verdi Flop totale Quest'anno Guarda che se lo metti Primo Significa che Sta vicino a me Sì No Allora Peggio di Di Basellini No È un flop totale Quest'anno Per carità di Dio Cioè Cazzo Una merda Era peggio Prima della Coppa d'Africa Ha fatto una partita buona E è tornato Dalla Coppa d'Africa Iuri ci ha fatto direttamente Che non schierarlo Per farvi capire Mi ha fatto bestemmiare Tanto Di quel tanto Perché Lui si ostinava A puntare il cazzo di uomo Quando non lo sa fare Ok E Nulla Quindi Senti Simone Verdi E Lo sapete tutti Il mio cazzo di pensiero Su Alaina Ragazzi Quindi E poi sto vedendo Il top Allora Per quanto riguarda il toro Simone Verdi Ti metto ultimo In Simone Verdi Perché io Ti odio Ma nel senso Nel senso Che Al toro Fai 70 presenze E fai Cagare Fai 4 gol In 70 presenze Vai alla cazzo Di Salernitana Ok E in mezzo anno Mi fai tipo una roba Come 6 gol Hai fatto più gol Con la Salernitana In mezz'anno Che con il toro In 3 anni E noi abbiamo speso 25 milioni Per te 25 25 Ultimo in Simone Verdi Perché al toro Mi ricordo Il palo porta vuota Con la Lazio Quindi per carità di dio Ultimo in Simone Verdi Però bisogna vedere Adesso torna dal presenzo Con la Salernitana Bisogna vedere come torna Quindi calma Riccardo Rodriguez Primo Indecenti Perché ha fatto una grande stagione Con Yuri C'è stato completamente rigenerato Quindi bravo Ma che sta a fare Bravo bravo Un pom Non so se avete notato Ma ha acceso il microfono E mi è iniziato con un orgasmo Vabbè Comunque ho fatto una buona stagione Quindi Lo premio lì E chi cazzo è? Ah Mandragora E stagione condizionata Agli infortuni Tra Sanabria E Zima Decenti Tra Sanabria E decenti Terzo Terzo e indecenti Bravo Elementi importanti Anzi Mettilo No no Lascialo lì Elementi importanti Per il centrocampo Però Stagione Dettata dai tanti infortuni Tanti 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 infortuni Lukic E il secondo E ultimo top Che metto Dopo Bremer Lukic Perché il centro E il fulcro Del nostro gioco E fondamentale Per il gioco di Juric Lukic Il top Della squadra Lukic Se ne va a Bremer E il centro Della squadra C'è il fulcro Proprio della squadra Il 10 E il numero 10 Nient'altro da dire Pratt Allora E' stato rotto tre mesi Perché si è rotto il piede Ma In quei tre mesi Che Sono stati I mesi da Febbraio Ad aprile Si è visto un toro Completamente diverso C'è un toro Con Pratt E un toro Senza Pratt Quindi io Pratt Te lo metto Primo in semi top Perché Primo in semi top Perché E' fottutamente Fondamentale Dennis Pratt Perché appunto Esiste un toro Con lui E un toro Senza di lui Quindi lo metto così Poi questa tier list Me la salvi E me la mandi Poi su Whatsapp Grazie Certo Ma tanto esce su Youtube Ah ok Perfetto Simone Zazza Lo devo commentare Devo Devo proprio Cazzo Zazza E' una lotta Tra poveri Tra lui E Verdi E' una dura Lotta Tra lui E Verdi Che per me E' stato un grande Idolo Perché ha giocato Anche nell'Ascoli Wow E' figata E' No No Peggio di Verdi Non può essere No Non è vero No Quest'anno In verità Ha fatto proprio Cagare L'anno scorso Ci ha Ha contribuito La salvezza Quest'anno Ha fatto proprio Cagare Mettilo ultimo Mettilo ultimo 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 Basta Zazza Zazza Allora Ha fatto bene A Valencia Perché ha giocato Nel Valencia Prima di venire da noi Veniva D'annate buone Perché comunque Sappiamo bene Non è un brutto giocatore Però ormai Si è completamente perso Completamente perso Ma perché per me Zazza ha fatto Su Ha passato All'Ascoli Alla Juve Dopo con la Juve Un po' Ha lasciato bene Ha fatto bene A Sassuolo Aveva fatto bene Alla Juve Secondo me Ha preso una botta Psicologica Tremenda Con il rigore Sbagliato All'europeo Quella secondo me È stata proprio Una botta Nella sua carriera E Io non so Se l'avete visto Cioè Ho visto Lo zazzo C'è una nazionale Che si chiama Isole Vergine Britanniche Ho visto Lo zazzo Della serie B Dell'Ascoli Che è andato In serie A Cioè Raga Io parlo Di un giocatore Che era fenomenale Infatti Qua nelle Marche Era tutti soddisfatti Vedessero zazzo Che andava su E poi Ho andato alla Juve E poi Non ho fatto più niente Si è completamente perso Dispiace dirlo Perché comunque Non era male Come giocatore Però si è completamente perso Purtroppo Io quando era arrivato Zazzo Mi ricordo Nel 2019 Tra l'altro Non aveva fatto male Il primo anno Che era arrivato Perché noi Appena è arrivato Zazzo Io ero subito Megane E ho detto Wow Coppia Zazzo Belotti Cazzo Che coppia Perché comunque Zazzo era zazza E poi Si è completamente perso Con Mazzarri Con Giampao Completamente perso Arriva il mio pupillo Che Alessandro Buongiorno Che lo metto In Decenti Dopo Zima Lui è un giocatore Io non vedo Prima di Berisha Prima di Ecco esatto Lili Lili E' un giocatore Bravo Fisico Può diventare Un difensore Granitico Della Madonna E ancora un pochino Acerbo Ok Però è tanta roba A me piace tantissimo Ha il vizio di farsi ammonire Spesso Ok Però a me piace A me piace Ale Ale mi piace Poi tra l'altro Mi ha messo like Una storia E a me A me piace Alessandro Hey wow Hey A me piace Ale Buongiorno mi piace Quindi Lo premio per questo Sì Tra l'altro Mi ero fatto lo screen Ed ero tipo Eh guardate Eccolo qua Il like di buongiorno Sì Nulla E Ale mi piace Punto E l'ultimo Perché Gemello non è valutabile Vania Milinkovic Savic Il Brate Di cui ho Lavaglia E lo metto Primo In me Bravo con i piedi Non tanto con le mani Che sarebbe la cosa fondamentale Dal momento che è un portiere Però Ha fatto una prima parte di stagione Molto buona Perché ha fatto una Giorgia andata molto bene Seconda parte di stagione Si è perso Completamente I papere su papere Errori Cioè errori Però comunque La prima parte di stagione La premio Quindi lo metto primo In me